Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Shogun 2 Total War Io sono Leone con il nostro grandissimo, fantastico, ospite speciale Perché non viene mai in questa serie Ryukudan Esattamente, poi mi sono accorto come ha iniziato il video a gente che è morta No, sempre, prima di iniziare il video sto parlando delle live Sempre parlando delle live Esatto L'altro giorno, cioè quando è iniziato la live del gioco Cioè l'altro giorno per me, per voi saranno mesi Di Reigns, tipo, ho fatto silenzio, schermo nero 10 secondi poi, ciao a tutti i ragazzi Partito male, capisco che soddisfazione ci provano adesso gli streamer a farlo Lo capisco E' fantastico Wow, wow Come se ti dà soddisfazione, sai Comunque Sa, dico Lì prendo il gioco, passo il turno, intanto devo fare l'un l'altro No, è vero, c'è soddisfazione Cosa è successo? Non è mai capitato Sì, no, non è soddisfazione Questa è disaffezionata Cosa ho fatto? L'aver ignorato gli sforzi fatti dalla nostra gente Oh, ma... Eh, si sono arrabbiati Così Sei cattivo, te l'ho detto Io non ho fatto niente E questi si sono arrabbiati, ok Spiegatemi un po' No, ho sbagliato a schiacciare il tasto Sono deficiente Vabbè Vabbè Contento in crescita Ah, 200... Quanto mi arriva? Quanto? 247 Solo? Sì Che tristezza Solo Che tristezza Solo 247 Non so se hai capito come sta funzionando Sì, infatti dico cosa solo E infatti non ho capito perché così di colpo No Sto cercando di vedere la roba Cos'è? Ah, fanno di pellegrino allora, vai Per il monaco Perché io ho reclutato monaci su monaci su monaci Non vuol... Beh Ok, più nella felicità dove è presente questo uomo Perfetto Quindi Ad Aki la felicità è a posto Mentre invece a suo No Gestione e insediamento Vai E il suo dovrebbe ritornare a posto Ora Qua, te Lo stesso Dovresti... No, sei... Che monaco sei? Buddista, giusto? Cioè, buddista Cos'era? Budismo? Beh, no In teoria monaci sono buddisti Hai ragione anche te Sono un pirla Vabbè Gestione e insediamento Che perlmeno in questo gioco Vabbè Questi sono magi, buddisti In teoria Poi bo Poi bo Appunto Non lo so dire In ogni caso il cristianesimo scende Facciamo scendere il cristianesimo E tutto andrà bene Un mezzu Che qua Invece lo possiamo mettere Sorveglia e insediamento Bravo Mezzuchino Ok, così Insediamento Mezzuchino Ora Tutti i segmenti sono opposto Giusto? No, cioè Sono due che Che è tipo Bingo Che è mezzo incazzato A bingo sono messi Tipo Mezza incazzatura E Iwami Allora Io a Iwami Potrei sganciarti Sto caro Amico qui No Non basta ancora C'è Lui Cos'è? Spia 5 Campo visivo Sotterfugio Più Uno in assassino L'attivamento Spia Tra te per ora Cosa mi dai? Travestimento da pazzo Che guardino pure Nei posti sbagliati Cioè Va bene Samurai Vanagolioso Questa è una spada La tua lama Non la userei nemmeno Per schiare Il nemataio Di un contadino Cosa? Lo prendo È fantastico Lo prendo Vabbè È farlo Casual things Yeah Vabbè Mi sa che fermerò un po' A bingo la gente Eh sì Devo per forza Fermare un po' Di gente a bingo Finché non si Sistema la situazione Col cristianesimo Sai Ma Eh purtroppo Faccio un bingo Così Però No No La mia vita è bella La mia vita è bella No C'è il rischio di morte Cosa dovevo reclutare qua? Ah ok Questi qua ancora Costruzioni Devo adesso mettermi a costruire Purtroppo Scusami se ci metto tanto A fare il turno Ma perché Ho ancora 11.000 da spendere Sì beh In teoria Devo fare roba Poi si è Maledetto il corso Eh sì Avrei continuato Mentre tu facevi roba In parte Faccio sempre così Dai potenziamo questo Al massimo Su via Sado Sado non è al massimo Però non so Cos'altro fare A Sado Posso fargli Un accampamento No Posso fare Laboratorio Di geniere D'assedio Ma Non me ne faccio nulla Samurai Allora vediamo cosa hanno No Non hanno nulla Che mi può interessare mai C'è proprio Vabbè Ci recluto Samurai Dai con gli ari No dai Non gli ari Voglio il dojo C'è voglio Come si dice Scuola di spada Perché sì Però non mi piace Mi vale katane No Vabbè Sì Potenziamo questo Mi piace Non le katane Ok Io direi di tornare Qua indietro Anche Potenziare un pochettino Tipo Questo porto Qua Di Iwami Stai facendo un po' Di Di eco Lo sai E come ha fatto A fare eco Non c'è niente Non lo so Però sento eco Sì Adesso senti eco Prova No Ora no Vabbè Ho spinto bene I cavi Vabbè Sono stati attaccati Fine turno Ok Mi aspetto già Una rivolta Dalla popolazione Perché tanto Lo so che sono Infami schifosi Let's boom E infatti Rivolta a Bungo Anzi no Non è rivolta È scontento In crescita E basta Sì anche a me Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Non vi preoccupate Vi mando un po' di gente Tanta Tsukushi qua Sono tutti felici Tra virgolette Quindi Direi proprio Che posso mandare Anche se Oddio A Bungo c'è solo Un meno uno Di Di scontentezza Però meglio non rischiare Allora Io a Buzzen Se sposto Dovrebbe arrivare a 5 La scontentezza Cioè la La felicità Tra virgolette La scontentitudine La scontentitudine Tanta Tanta Allora Sono agghiati neri Mi ammazzano Cioè Mi ammazzano E' arrivata a meno 7 Cosa è successo? Le tasse No Vado in rosso Le tasse Non è possibile Non le vogliono pagare Credo Eh ma proprio Tirchi eh Ok dai Va bene Mi ammazzano Dai su Forza Dai Il mezzucco è aumentato Di livello Rivolta cristiana Cosa fa la rivolta cristiana? Un casino L'agente furiata per cui viene trattato E' da sollevato una rivolta Ancora non ha Ah no Eccoli Che palle Ci devo mandare Il mio esercito figo Quello che ha bingo Una rivolta pure da te È rivolta cristiana Purtroppo Va bene Ma Diego C'è l'esercito figo Esercito figo E c'è l'esercito scarso C'è l'esercito figo Dunque I uami vai Entriamo qua dentro I uami dovrebbe essere a posto Nagato è un po' ingasinata Suo Se ci mettessi Come si chiama? Allora Dovrei Se passo via questo qua Dovrei mettere a posto Nagato Si Nagato quindi a posto Perfetto I uami a posto Bingo potrebbe rompere le palle Il prossimo turno Però confido In un po' di bravura Va bene Dai Forse riesco a contenere Questa rivolta Il prossimo turno Li uccido Con tutto il mio esercito Il mio esercito figo Perché c'è l'esercito non figo L'esercito figo E loro sono tipo Sono Ashigaru L'unica Provincia Che dà problemi È Bingo No È suo anche Perché è suo Mi dà problemi Prima non meritava Perché dava due Quel maledetto Monaco Va bene Allora ci costruisco Una taverna Così sono contenti Vai Ci costruisco taverna ovunque È il momento di tavernare Tavernare ovunque Chi se ne frega Ti taverno tutto Madò Qua c'è un casino Ti taverno Tutto 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 Sono mega Rivolta della fede 50.000 No Sono Volete veramente Giocare a questo gioco Va bene Siamo in due Allora Vieni qua Da quanto ho capito A Bungo c'è una rivolta Anche se non vedo nessuno Effettivamente Quindi non capisco Allora Si è ripresa l'economia Si è ripresa l'economia Si è ripresa l'economia Miel signore Però 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 Ah eccolo qua L'esercito Rivolto Dei rivoltosi Quindi prendo L'esercito Rivolta Mi ammazzo Tutto Mi fanno vomitare Quanta gente Ci hanno però Tanta Fammi vedere Cioè vabbè Udio Però Niente di che Però Automatica Si Si Il bello che te l'ho chiesto Dopo aver Premuto il tasto Vai Si Ok No per uccisi No io Non scappate Povera stella Povera stella Va bene Mi devono Devo morire Non ce la fanno Mi devo proprio uccidere Se no Non so contenti Allora Un esercito Fa quello Di solito Giusto per dire Ma non mi interessa Devono stare zitti E soffrire Male Dimentichi Dimentichi Vabbè Male Era scontato Allora Aspetta che C'è stato un attimo di lag Cerebrale Lag cerebrale Dopo la cosa Che Vabbè qua Qua tolgo le tasse Per un po' Se no Mi Spaccate la testa Magari Abbungo Devo andare a Bungo Vedere Le tasse Sono già tolte Quindi se si rivolta Ancora io Sviello Quindi mi tocca Soltanto Portare La La flotta In porto Perché Cioè Non posso prendere niente I cesocale Hanno preso Tutto In porto La flotta Certo Cosa ho completato Tempio buddista Si Si Tempio buddista Si Meno male Cosa sto facendo io a proposito Ah si Stavo rushando Per ad essere Che giuzzo Scusami Allora Recluto Monaco Così poi lo mando a Buzen Almeno stanno zitti E si ammazzano Tra di loro Senza che mi danno Fastidio Quindi passo Tutto Mamma mia Ok Ninja aumentato Il livello Katsuoshi Scontento In crescita Suo E a bingo Va bene Che fastidio Quando dicono Scontento In crescita A suo Risolvo Subito Intanto Mi recluto Un altro Monaco Anche a bingo Risolvo subito Perché Perché ci mando Il mio esercito Tia shigaru Per questo turno E poi ci mando Anche il mio Mezuke Perfetto Poi C'è questo esercito Ozzo Robi scatole Che Voglio Uccidere male Quindi ci sto portando Un bel Ninja Va bene? Ninja Si Ninja Voluto Posso sabotarlo Eccoti qua Sabottiamoti Intanto ho già costruito Nel tuo turno Sabottaggio fallito Però Sei un bravo Ninja Lo sai Ti adoro Che livello è? Non base Spia Livello 2 Però fa schifo Fa stanza Perché Perché faccio schifo Vede Sono una brutta persona Costo occidentale Di sign in Va bene Ci sono due indicatori Sopra la mia città Che mi fanno Tipo What? La mia mente Mi fa What? Comunque Vediamo ora C'è soltanto Una città Che tipo È suo Che dice No Io voglio Pace Tranquilità Va bene Muori male Suo Cavoli tuoi Ti ho levato le tasse Sì Vabbè Spero che un turno Lo reggi Sennò ti mando Sessantamila uomini Sessantamila uomini Dai È meglio Duecentomiliardi Allora 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 Rivolta No Mi sto attaccando La città No Vabbè Però No Non resisti Te la giochi? Sì Me la gioco Battaglia Normale E allora Osservo Sì Perché sono A Shigaru Potrei farce Faccio un salvataggio automatico Magari si Bagga male Quindi Combatti la battaglia Sul campo Non è impossibile Devo Sperare bene Questa è la prima volta che vediamo l'assedio in un castello O no No la seconda Sì perché l'altra volta mi si era buggato tutto Era esploder Questo ho fatto il salvataggio automatico Giusto Sei vero ma giusto Il doge della serie aumenta la velocità di caricamento e fuisce di munizioni tutte le unità di tiro nelle vicinanze Ma di caricamento della mappa O di Dai ti prego non ti baggare Sto baggando? Oppure no? Non lo so Sì si è baggato Vabbè Vabbè falla 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 non ti preoccupa Ce l'ha proprio con te Il gioco Sì ce l'ha con me È inutile Vabbè dai falla e poi Poi sarà Si vedrà Poi esco e rientro un attimo Sì per forza Ok Facciamo così tipo e vediamo come va Allora dove sono esattamente? Eh sì più o meno sono azzeccati dove li ho posizionati Ok Qua davanti a Shigaru con Yaya Eh ma sono più Allora Vado a rinforzare Questa zona qui Ok Perfetto Mi sa che vi tocca far scendere No posso tenerli montati E rompergli le palle Per come posso Intanto hanno Cavalleria A un certo punto Dov'è che sta arrivando la cavalleria? Da questo lato Va bene Questa è una torre degli arcieri? Ecco torre degli arcieri vai Non pigli le scatole Via no Non cavalleria leggevole Che prendessi di mira Il loro generale Comunque Mettiti qua tipo te Vai Vai Scendiamo tipo a livello 2 Se finché rimanete fermi Arrivate uno alla volta A me va bene la cosa Lo dico Tranquillamente Ah beh Ok Vai Perfetto Torre degli arcieri non li può colpire Però ha due frecce rifugate La torre degli arcieri Mentre l'altra Ancora nulla Eh stanno arrivando tutti insieme Purtroppo invece Che palle Fammi vedere Come posso gestirla Allora qua ci sono Dei cavalieri Dei cavalieri Ok Quindi ci mando via Invece i miei Samurai Sull'altro lato De quelli del forte Ecco Li mando qua tipo Va bene A rompere le scatole a questi Ok Mentre invece su questo lato ci sono Shigeru Koyari Shigeru Koyari Shigeru Koyari Spero che i miei Shigeru Koyari bastino Sennò ci toccherà piazzarci la cavalleria a rompere le scatole In ogni caso Torre Dei arcieri Le scelte rifugate appena arrivano Qua stanno già passando Vorrei tanto vedere cosa sta succedendo Mi dispiace Eh purtroppo Lo vedrai in video Lo vedrai in video Farà un bel po' di tempo Perché ci metto tanto a caricarli Però Li vedrai in video Spara Torre Spara Torre Torre con gli arcieri Spara Ok Vabbè dai Ne sta eliminando comunque Abbastanza Relativamente Torre il generale Cosa? Torre il generale No no Non è generale Aspetta Non vedete la situazione Allora Qui Ok stanno caricando Mi conviene spostarli qua Questi Vai Li sposto subito Poi Però ci sono anche qui Vabbè questi li Li mando la cavalleria contro Vabbè Gli altri sono tranquilli Più o meno Andiamo Normale Hanno degli arcieri Wow Utilizzare gli arcieri in questo modo E complimenti Tattica intelligente Beh A sto punto io Posso mandare anche questi Qua Tipo ad aiutare Per assaggono sopra Io posso mandare carica di cavalleria In generale E adesso Avanza verso questo lato Ok Così gli da un vantaggio A questi qua E li do Anche la tipo La mia benedizione Sai Ispira La roba lì La mia benedizione Caricali Dipende Se è quella del lì Ci aumenta la corsa Quella è la benedizione Infatti Adesso mi uccideranno Perché ho detto Non ti preoccupare Non ti uccidono Per lol E poi uccidono me Questa sedia Cioè che lo sto facendo Soltanto perché voglio Risparmiare truppe Non in combattimento Ti ringrazio Che cosa stai facendo Lo stai facendo di bello Io Non tu I miei I miei I miei shigaru Commattimento Dai unita in vantaggio Va bene Sì stiamo rispingendo Mentre qua rimangono ancora Da aspettare Va bene Voi aspettate Non mi do problemi Io Guardiamoli Altre facce infuocate Andiamo Andiamo Mettiamo il tempo al massimo Intanto Oh che bello Se ne stanno andando Perfetto Allontana un po' il microfono Non so perché si sente eco Oggi Strano Molto strano O si sta rompendo Il che è molto probabile O non lo so Non lo so neanche io Ah stanno attaccando I cavalieri I cavalieri Senza utilizzare Cioè andando corpo a corpo Va bene Ognuno fa le sue scelte Hanno vinto Hanno perso Ci sente eco ora Ho vinto Vittoria di misura Provo 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 No Faccio piccolo taglio Attento Non uccidere Aspetta Ancora Ancora l'ho tagliato Quindi dico Va bene Ho fatto una vittoria di misura Piccolo taglio Riprendiamo A fra pochissimo ragazzi Ok ragazzi L'unico modo Per risolvere Quel maledetto bug È stato che praticamente Facessi battaglia automaticamente Nel assedio E quindi perdessi Che palle Vabbè Adesso lo riconquisto Datemi un attimo Che purtroppo Non è Né questione Di scheda grafica Né di Non lo so Cosa È proprio Gioco Quanto abbiamo capito È brutto Sì Che palle Ho fatto male Scelte e sciocco Come primo gioco Dovevo mettere qualcosa Di meno Baggato Male C'è vero Eh vabbè Ormai Se la vi Allora Scherzare Nel equilibrio Della società Devono essere messi Al proprio posto Così la influenza Minuirà La vecchia maniera Cosa succede Più 10% E qua Qui a posto Oddio Non lo so Anagato No Solo esportazioni Fattore Eletricità No Da farò Riprimi Da Riprimilo Ok Adesso vado ad ammazzare I rivoltosi Che c'erano qui E scappano Eh Siete infatti Vabbè Cosa devono fare Farselo prendere Tutto in faccia Certo No Ma quello è bello No Ma c'è anche Una roba di rivoluzione Una roba di rivoluzione Una roba di rivoluzione Non si può Un'aroma di rivoluzione Magari No C'è una roba Brutta 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 C'è una roba di rivoluzione Allora io già Questo Sì a Roma Rivoluzione Allora Io il monaco Lo mando A Buzin Così sono tutti tranquilli Vai Su Oh Adesso sono indifferenti Questo esercito Mi sta preoccupando un po' Però Non penso Guarda come fuggono Come topi inseguiti dal palco L'esercito nemico è ritirata Soddisfatto Non riborsato Vabbè Non ho costruito la mano Eh purtroppo Dovevo dire qualcosa Non mi ricordo più Sì è perché la butta la battuta Quindi No 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 lo sai che ogni tanto il cervello Esplode Eh no Non te lo ricordo più Eh Volevi Volevi ricordarlo E invece No E invece No Allora qua Mi riprendo i soldi E non ne frega niente Eh Le ammazzate piuttosto E quindi già Si ricomincia Un po' di soldini Qua Mi ripiglio i soldi Posso riprenderli Non posso riprenderli Se mi ammazzano E qua È tutto tranquillo Meno male È tutto tranquilli Quindi sì Devo controllare una cosa Molto franzollo La situazione Sì Devo controllare quanto L'abbiamo registrato Nell'altra parte di video Nell'altra parte di video Nell'altra parte di taglio Giusto Perché se no tipo Yay Siamo tipo Yay Video di 50 ore 21 minuti Quindi dobbiamo fare 10 minuti adesso Ok Vabbè passo il tour Live di 2 ore Altra live di 2 ore Vai E la moto Penso perché è una live di 2 ore Di shogun Se è tornaiato Aspetta No Non voglio il commercio Non voglio il commercio Ok Ok Vai Posso riprendermi subito questo a castello Però faccio Automatica perché è un vantaggio Letteralmente schiacciante Con pregiunta le porte aperte Sabataggio rapido Perché Sì Non si sa ma è automatico Sì Sì Cioè sono Ashigaru contro Samurai Nodachi Katana Cioè vedi te Oh wow Wow Ho perso 93 persone Per farti capire Questo è il mio esercito di prima linea Anche se mi mancano Mi manca la gente a cavallo Cioè l'ho persa La gente a cavallo Purtroppo Ok Qua ci costruisco una taverna Almeno così siete contenti Mentre vi converto Vi converto tutti 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 Ok Un altro mezzucca Ok ok Stavo controllando Perfetto La situazione Trovate acquisiti Date con i mici Figlio Depresso Minchia Date gli uccinori Fratello Depresso Perché è morto il tizio Si sono depressi Mi ho depressi tutti Perché Sono tutti depressi La mia famiglia Cosa brutta Scrabs Ok basta Va bene Facciamo un altro po' di cavalleria Allora Devo portare a fine Di questo secondo esercito Qua La parte cavalleresca Dell'esercito No in realtà c'è anche un po' di Samurai in generale Quindi Neanche troppo cavallero Sai che fico se ci fossero i cowboy Cosa c'entrerebbero Non lo so Figo però No ma giù ci c'è anche i pirati Non wako I pirati normali Eh tipo Non lo so Magari un gioco Prendi un territorio E scegli se fare Cioè puoi fare tutto Fai un po' di pirati Samurai Astronauti Astronauti Cowboy Nessun gioco Te lo darà mai Questa città Però è figa come idea Cacciatori di taglie spaziali Cacciatori di taglie spaziali Va bene Fine turno dai Ok 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 No No io No io Eh benvenuto nel mio mondo Non te la puoi neanche giocare Perché se non si paga Stanno tenendo in assedio No Stanno attaccando Ah ok Non te la puoi neanche giocare Si paga Va bene va bene va bene Faccia automatico va bene Tanto torno lì e li ammazzo Quindi non ci vuole molto Ovviamente avresti ucciso di più Se avessi giocato più una persona L'assedio Che palle Quindi non posso far vedere Neanche l'assedio Basta attaccare Dove stanno andando Mi stanno distruggendo tutto Ah è sbiello Sbiello esce Significa che si cazza Non puoi far partire le cose In dialetto Devi stare attento ai video No pensavo Pensavo lo sapessero No Si dice sapessero Penso che si In questo momento Non ho abbastanza intelligenza Per dirlo E adesso Osservo Non voglio sentire storie Automatica credo Però vincato Come vi samurai contro Io avevo soltanto la Shigaru E infatti Hanno fatto Eh no Noi attacchiamo tutto Noi siamo samurai Noi siamo samurai Dai su Sali di livello Su Ah Quanto lo sapevo Luce di minare al cielo Lubabba Ok Ok Nel Sgames Italia C'era la cosa dei babba C'era il dio rapoletano della morte Con i babba Si Me lo sono ricordato Mi l'ho raccontata Purtroppo non l'ha vista Devi guardarti dei Sgames Italia C'era Daggio World La pirla nera Vabbè La pirla nera Si Fantastico Bello Era bellissima Quella cosa Oggettivamente bella Non c'è molto modo Di definirla Quella cosa Ah beh Non lo scluderei Si Ok Qua è tutto a posto Quindi Vavero Adesso Strano Io me ne vado A A Buzen L'esercito Vabbè Prossimo turno Lo manderò a Buzen E non voglio Sentire storie Devo morire Oh Abilità con la spada Migliorata Ora Padronanza del cavallo Allora Ci sono sempre contatti Per zappare la terra Allora Migrazione urbana Più 10 Di crescita Di città Di tutte le province Lavoro agricolo Aventato Io direi Incoraggia le migrazioni A lungo termine Funzione In teoria Monaco Rientra qua dentro Gestione insediamento Cioè Allora In questo insediamento Ci ho piazzato due monaci Per farti capire Talmente mi stanno rompendo le scatole Sono fai gli insediamento Te capisco Si si no Sto piazzando una maglia di mezzuke Monaci Cazzate Ho anche reclutato roba Per farti capire In poche parole Mi sto incazzando In modo molto tranquillo Devono morire tutti Si si L'ho detto che I cristiani fanno schifo da tanto tempo Scherzo E' una battuta E' una battuta E' una battuta Sto scherzando E' impazzisce E' impazzisce Sto scherzando Sto scherzando Mi viene a dire sviella Abbiate pazienza Devi dire in italiano E' un video Impazzisce Bravo Facciamo doppio pellegrino Vai A questo monaco Doppio pellegrino Di nuovo Scaglia di drago Più due allo zelo Quando si spinono le città La meraviglia in ogni cosa Di questo mondo Oppure Kaiken Sono tipo le spade Piccole Giusto? Ah Beh non lo so Non l'ho mai sentito Cioè sono tipo il coltellino svizzero Nel taschino Coltellino svizzero Ma certo Perché soprattutto Conoscevano la svizzera E' palesemente svizzero No? Se vuoi è novi al limite Tipo è sceso un braccio Sì Mi è caduto un braccio Non lo posso più recuperare Tutto un po' Mi è morto un braccio Nooo No Un coltellino svizzero O novi? Beh un coltellino novi Sarebbe un coltellino falcivolato Un coltellino? Fatto di cioccolato Ci sta Ci sta tantissimo Wow utile Sì Ma come Come fanno ad essere utili Un coltellino novi Comunque Mettiti qua come esercito esploratore E andiamo Questo esercito Lo possiamo finalmente Mandare In zona Come si chiamano? Città castello Ueno Dei datte Questa è mia Che coglione Che sono Dei kitabattake Che ci prendiamo I kitabattake E poi ci prendiamo I jojo Ci prendiamo i jojo Vai Ce l'ho fatta Finalmente Ho risolto i problemi Della mia vita Grazie Questo esercito Sta proseguendo Unendosi all'altro esercito Di punta Vai Avanza Ok perfetto Sistemate queste cose Potrò finalmente Conquistare il mondo Quasi Quello che devo fare È quello Praticamente Vediamo Dieci minuti Tutto Ecco sarebbe figo Aspetta adesso Concludiamo Mondo Universalis Europa Universalis C'è già tutto il mondo C'è già tutto il mondo In Europa Universalis Non c'è soltanto l'Europa Però è più figo Un mondo Universalis Sì come nome Come nome ci starebbe Però è oggettivamente Dai fai questa battaglia Poi concludiamo Automatico ovviamente Sì sì Tanto automatico Però come oggettivamente Europa Universalis Tu scegli una provincia a caso Tra 1400 e 1800 Vabbè 1800 finisce il gioco In teoria Però puoi farlo Ci giochi È una figata C'è una provincia a caso Una nazione a caso Che ok Fammi salutare Fammi salutare Facciamo questo tumore Un attimo Un attimo No no Fammi saluto No lo fai Lo fai Nel prossimo video Saluta Bene Ciao a tutti ragazzi Qua Daniel Non è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che anche da Yuku Non sia tutto Frattetto Sì per me è tutto Non vi preoccupate Se vi è piaciuto il video Vi ricordo iscrivervi Commentare Lascia un mi piace Ciao a tutti ragazzi A un prossimo video Ciao Ciao